Altro incidente nel solito tratto autostradale a due corsie che attraversa il Veneto orientale. Verso le 12.30, tra gli svincoli di Sanstino e Cessalto in direzione Venezia, un tir ha perso due ruote e inevitabilmente si sono formate lunghe code, in cui altri due mezzi pesanti si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno preso in cura un camionista è rimasto ferito, gli ausiliari di Autovie Venete e la polizia autostradale per i rilievi. L'autostrada è stata chiusa a Sanstino con uscita obbligatoria. È la diciottesima chiusura in poco più di sette mesi in questo tratto autostradale.